Cambio di comando per i Vigili del Fuoco di Brindisi. Dopo quattro anni l'architetto Giulio Capuano saluta, andrà a dirigere il comando dei Vigili del Fuoco di Foggia per passare il testimone all'ingegnere Giuseppe Galgano, già funzionario a Potenza e alla sua prima esperienza da comandante. Lascio un comando operativo, un grande comando, con delle risorse strumentali che sono state integrate all'amministrazione nei limiti possibili negli ultimi anni, risorse umane eccezionali che mi hanno permesso di lavorare con serenità in questi quattro anni perché hanno garantito sempre una risposta operativa, una risposta pienamente operativa alla provincia di Brindisi. Sembrano un vecchio ricordo dunque le tensioni emerse tra il comandante uscente e i Vigili brindisini culminate nello sciopero dello scorso 23 agosto. Al nuovo comandante ha anche il compito comunque di ricucire definitivamente lo strappo. Il nuovo comandante ha sottolineato la particolarità di questo territorio dove insistono porto, aeroporto e aziende ad alto rischio e ha anche rimarcato di aver avuto già esperienze in questo senso. Ha partecipato ad emergenze nazionali quali gli eventi alluvionali del Po del 2000, gli eventi sismici in Abruzzo del 2009 e del centro Italia del 2016. Si è occupato tra le altre cose di attività a rischio di incidenti rilevanti connesse alle estrazioni petrolifere nei territori della Val d'Agri e di Tempa Rossa. Io da questo punto di vista ho acquisito esperienze nel corso degli anni in quanto ho trattato attività che rientrano in rischi rilevanti presenti nel territorio del Potentino che è impegnato nelle estrazioni petrolifere. Dalla parte mia ho grandi conoscenze nel senso che ho passato tutta la mia carriera di 26 anni nei comandi. Quindi penso di portare qui l'esperienza.